Ciao a tutti ragazzi, vi registro uno dei miei primi video con il mio cellulare, sarà la mia, scusate questa improvvisazione, la mia nuova forma di registrazione di video, forse il prossimo video di video recensione sarà dalla mia webcam ancora, perché mi sto trasferendo, sto andando in Austria per un periodo di prova per un lavoro a Vienna, da lì farò vlog e caricherò i miei video dal cellulare, con le riprese del cellulare e il mio canale farà vlog della mia vita viennese, della mia esperienza, sempre parlando di libri, intervallandolo con la mia esperienza austriaca. Un saluto a tutti ragazzi!